Mondadori presenta Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli. Legge Dario Sansalone. Maria ho perso l'anima, aiutami madonnina mia! Nero e ancora nero, questa deve essere la morte. Maria ho perso l'anima, aiutami madonnina mia! Odore di bruciato, sempre più forte, il calore che diventa fuoco, arde. Spalanco gli occhi sul mondo come fosse la prima volta, a fatica riesco a tenerli aperti, ma soltanto per poco. Maria ho perso l'anima, aiutami madonnina mia! Accanto a me ritrovo uno sconosciuto, sembra San Francesco, solo allucinato, sporco, secco da fare paura, ha un accendino in mano. L'odore di bruciato sono i miei capelli, sta dando fuoco alla mia testa. Vorrei chiedere aiuto, ma non ce la faccio. È come se il cervello non riuscisse a comunicare con il resto del corpo. Un urlo di ragazza strepitante esplode nell'aria, rivolto, esce dalla bocca di un quarantenne, ha i capelli rossi tinti, pochi, completamente rivoltati da una parte. Urla ancora. Pino! Pino! Madonnina sta da fuoco a quello nuovo! L'infermiere è una pancia che cammina. Tutto bianco si affaccia dalla porta, quando vede cosa sta succedendo aumenta il passo. Sto figlio di una mignotta! Endo cazzo l'hai trovato, sta accendino! Maria ho perso l'anima, aiutami madonnina mia! L'infermiere mi sfila davanti, con un balzo strappa l'accendino dalle mani del pazzo. Lui non dice niente, si fa mettere sul letto senza reazione alcuna, un animale di colpo inerme, indifeso. Che devo fa' con te, madonnì? Se oggi mi rifai qualche guai, io giuro che ti chiudo al bagno! Il mio corpo vorrebbe riaddormentarsi, ma io mi oppongo. Cerco in ogni modo di resistere, provo a parlare senza riuscirci. L'infermiere si gira verso di me, passa una mano sul lato della testa che stava prendendo fuoco, e l'aria è rimasta la puzza di pollo bruciato. Lui sorride di sufficienza. Non t'ha fatto niente, i capelli tempo due settimane te sono ricresciuti. Detto questo, se ne va. Con la poca lucidità che riesco a permettermi, cerco di capire, comprendere il luogo in cui mi trovo. Uno stanzone d'ospedale, con sei letti. Il caldo che si mischia alla puzza, odore di disinfettante e sudore. L'uomo che urlava come una ragazza si guarda intorno, un passo alla volta si avvicina. L'impossibilità di scappare, di opporre la minima resistenza, anche solo urlare, moltiplica il terrore. Lui sorride, accosta la sua faccia al mio orecchio. Sono vergine, lo dice come fosse un invito irrinunciabile. Ho paura, vorrei vicino a me la mia famiglia, la mia casa, la mia stanza. So perché mi trovo qui, so quello che è successo. La vergogna, i sensi di colpa, il ricordo di ieri sera mi travolge, vorrebbe tramutarsi in pianto, ma non ce la faccio. Mi riaddormento così, agognando lacrime che non arrivano. Giorno 1, martedì. Una mano sulla spalla mi scrolla sempre più violentemente. Mencarelli, nemmo un po'. E l'infermiere sta tentando di svegliarmi. Dai, sole undici passate, tra un quarto d'ora te deve veder medico. Mi prende per le spalle e mi tira su. Buongiorno, principino. Te sei fatto una bella dormita. Te credo con quello che t'hanno sparato in vena. Ce la fai a dimmi come te chiami? Provaci un po'. Ho la bocca secca, la testa rimbomba. Daniele, Daniele Mencarelli. L'infermiere si cimenta in una specie di sorriso. Avrà una cinquantina d'anni, forse qualcosa in più, il viso segnato profondamente dall'acne degli anni che furono. E bravo Daniele. Io so Pino, invece. E Pino ama mette subito le cose in chiaro. Se tu stai buono, io so buono. Se tu fai armato cattivo, io divento più cattivo di te. Chiaro? E crede me, i sani sanno essere più cattivi dei matti. Capito? La faccia di Pino si è indurita. Mi sforzo di rispondere, malgrado l'intorpidimento generale. Ho capito. Altra cosa fondamentale, è vietato andare in giro. Tu puoi stare qui o nella saletta della televisione che sta a fianco. Mai e poi mai andare nelle stanze che stanno dopo la saletta della televisione. Lì dentro non so come vuoi. C'è stanno quelli cattivi, chiaro? Chiaro. Bravo Daniele. Mo' svegliete pe bene. Tra poco da chiamer dottore. Questa è te. Dagli a qualche sorso. Mi passa una tazza tiepida, poi se ne va. Riprendere possesso del corpo vuol dire sentire, uno a uno, una quantità di dolori sparsi dietro la schiena, il collo, ma è la mano sinistra quella più segnata. È coperta da un grosso cerotto all'altezza delle nocche e c'è del sangue rappreso. Dalla mano alla mente il passo è breve. Sui muri, addosso ai mobili, contro lo schermo del televisore fino a farlo esplodere. Eccoli i segni. Infine, enorme come il cielo, rivedo mio padre come cosa morta a terra grazie al mio spettacolo. Una selva di occhi. Sono quelli dei miei compagni di stanza. I sei letti sono sistemati su due file, i tre che ho davanti sono tutti pieni. Il ragazzo che ho di fronte avrà la mia età. Mentre Pino mi parlava, di tanto in tanto lo guardavo. Ora ne ho quasi la certezza. Da quando ho preso a spiarlo, non ha mai smesso di fissare un punto indefinito sopra la mia testa. È come se guardasse oltre, un oltre che lo ha totalmente rapito. Tutto quello che gli vive vicino non sembra in grado di ridestarlo. Alla sua sinistra, accanto alla grande finestra della stanza, c'è un uomo attorno ai sessanta. Dal primo istante in cui l'ho visto, ho notato la somiglianza incredibile. È identico al chitarrista dei Queen, ma il nome non riesco a ricordarlo. Il letto di destra, invece, è occupato dall'uomo con urlo di ragazza. Ora se ne sta di fronte a uno specchietto da borsa, si passa il lucidalabbra e intanto fa smorfiette, si sorride, sembra improvvisare un dialogo, un corteggiamento. Io sono al centro dell'altra fila di letti. Alla mia sinistra c'è il pazzo che ha tentato di darmi fuoco, sembra essersi calmato, pare addirittura dormire. Il letto dal lato destro è perfettamente ordinato e rifatto, dovrebbe essere vuoto. Ogni tanto, provenienti da altre stanze, altri mondi, grida, lamenti da straziare la roccia. Pino si affaccia in camera. «Dai, mancareta, aspetta mancino!» Mi tiro su a fatica, stare in equilibrio mi sembra più complicato del solito. Pino mi prende sotto braccio, così usciamo dalla stanza, ci infiliamo in quella esattamente di fronte alla nostra. Lo studio medico è piccolo, Pino mi fa sedere, poi esce. Di fronte a me o il medico, una cosa mi colpisce all'istante. Ha una mole straordinaria. Lo vedo dalle braccia, dalla mano con cui sta vergando righe su righe con la penna spinta a forza sul bianco della pagina. A osservarla bene anche la testa è enorme, come le spalle. Non posso dire l'altezza, ma deve essere un gigante. Allora, mancarelli, mi ha rivolto parola senza staccare lo sguardo dal foglio. Finalmente si tira su. Ha gli occhi azzurri, piccolissimi, il naso largo, i capelli in mezzi castani, il resto bianchi. Anche se il viso ha qualcosa di imponente, e quasi violento. Se avessi confidenza con lui, gli chiederei se gioca o ha mai giocato a rugby, perché sembra in tutto e per tutto un regbista. Mi sai dire la data di oggi? Giorno, mese e anno. Annuisco e inizio a fare i conti. Oggi è martedì 15 giugno 1994. 14. Martedì 14. Mi sai dire giorno, mese e anno della tua data di nascita? 26 aprile 74. Quindi hai vent'anni. Sai perché ti trovi qui? Davanti agli occhi, appuntite, avvelenate, fioccano le immagini di ieri sera. Sì. Il medico mi scruta senza scomporsi. Lo sguardo, sommato alla stazza, dà per risultato un uomo incapace di provare emozioni. Almeno questo lascia pensare. Non hai altro da dire? Puoi raccontarmi cosa è successo? Per il momento ancora no. Il mio rifiuto non lo sposta di un millimetro. Come vuoi, nel pomeriggio arriverà il dottor Cimaroli e lui, che ti ha preso in carico ieri sera al pronto soccorso, mi ha raccontato del tuo exploit. Complimenti. Per poco non ammazzavi tuo padre. Ci vuole talento. Resto in silenzio mentre lui continua a studiarmi, a segnare di tanto in tanto qualcosa sui suoi preziosissimi fogli che molto probabilmente mi riguardano. Comunque, tu da oggi sei in regime di trattamento sanitario obbligatorio. Sai cosa significa? Il dottor Cimaroli, assieme al collega del pronto soccorso, ha deciso per il trattamento. L'iter è questo. Abbiamo avvisato il tuo comune di residenza e il tribunale di Velletri. Stamattina via fax è arrivato il loro nulla osta. Quindi, per sette giorni, sei obbligato al ricovero e a ricevere le nostre cure. Dell'intontimento chimico non c'è più traccia. Ecco l'ansia, l'angoscia. Che significa? Non posso andare a casa mia? Il medico gigante fa di no con la testa. Da oggi, martedì 14 giugno al prossimo lunedì 20, starai nel nostro reparto. Perché ti dispiace? Il sorriso che sfoggia non lascia dubbi. Il mio sconforto lo rende felice. Ma nemmeno se mi comporto bene. Se faccio venire i miei e parlate anche con loro. Io non so, cattivo, sto in cura da un paio d'anni. Ho girato diversi suoi colleghi. Non ho mai fatto male a nessuno. Beh, il malore di tuo padre, quello che ti sei fatto tu. Comunque, da ora in poi saremo noi a decidere se sei pericoloso o meno. Così come quello che hai o non hai. Come si chiamano i colleghi che ti hanno tenuto in cura? Tutti non me li ricordo. San Filippo, Lorefi, Cicastro, forse anche qualcun altro. Si saranno svenati tuo padre e tua madre per mandarti da tutti questi professori. Avremo modo di approfondire. Questo colloquio serviva solo a comunicare il TSO. Io sono il dottor Mancino. Nel pomeriggio ci rivedremo con il collega Cimaroli. Puoi tornare in camera tua. Cazzo di caldo fa dentro sto ospedale. L'imprecazione finale, rivolta a se stesso, è mezza uscita in dialetto, senz'altro del sud, anche se non saprei dire di dove. Dallo studio medico alla mia stanza saranno al massimo una decina di passi. Li faccio lentamente, i volti di mio padre e mia madre, di mio fratello e mia sorella mi accompagnano in silenzio. Da quando sono nato non ho fatto altro che portare disordine. Un'esagerazione dietro l'altra, tutto un impulso da seguire, nel bene come nel male. Non so vivere in un altro modo. Non riesco a sfuggire a questa ferocia. Se c'è una vetta la devo raggiungere. Se c'è un abisso lo devo toccare. Mentre mi distendo sul letto, lungo il corridoio vedo sfilare il dottor Mancino. Mi sto in piedi a passo veloce. Sembra davvero un gigante. Provo a intercettare il suo sguardo, ma lui non ne ha per nessuno. Sprigiona risentimento, se non disprezzo. Il suo volto mi resta negli occhi. Come si fa a detestare così apertamente una persona che si dovrebbe curare? In questi due anni di via crucis tra psichiatri e patologie mi sono abituato al distacco, al disamore, ma una dichiarazione d'odio così palese da parte di un dottore mi doveva ancora capitare. Ciao. Senza che me ne accorgessi, al mio fianco è comparso l'uomo con urlo di ragazza. Gianluca. Tosto Mancino, eh? Ma qui dentro non è il peggio, credemi. Io sono Gianluca e allunga la sua mano smaltata verso di me. Daniele. E gliela stringo. Pure te TSO? Annuisco. Pure io, da ieri. Te che hai fatto? Gianluca avrà una quarantina d'anni, con i pochi capelli multicolori, dal cenere al bruciato al rosso acceso, ha architettato un lungo riporto con cui coprire la parte di testa calva. Le labbra finissime sono lucide, sorridenti. Alla sua domanda non rispondo. Lui non si lascia intimidire. Capito. Io ho fatto una stupidata. Ho portato a casa mia un amico. Quella stronza di mi madre ha fatto il panico. Crede, ma è il panico. Alla fine io ho dovuto menà. Ma io so' buona. Buona come il pane, in tutti i sensi. E si produce di nuovo in un sorriso che vorrebbe essere provocante, mentre io penso alle parole che ho speso poco fa con mancino. Chissà quante volte i suoi pazienti hanno tentato di rassicurarlo sulla loro bontà. Adesso Gianluca tuo te fa il quadro della stanza. Allora, al letto accanto alla finestra c'è Mario. Era un maestro elementare prima da Mattisse. Pure lui è buono come un pezzo di pane. Mario, a sentire il suo nome, si gira verso di noi. Ci sorride, poi torna a guardare l'albero che sta proprio accanto alla finestra. Gianluca si avvicina ancora di più a me. Sull'albero dice che c'è un uccellino. Nessuno l'ha visto. Comunque, proseguimo. Il letto a fianco a Mario è occupato da Alessandro, catatonico. Oggi pomeriggio viene il padre e te racconta per bene lui. Lo faccio tutti. Nell'altro letto c'è sto io. Di qua c'è Madonnina, quello che te stava da fuoco. Lo chiamano Madonnina perché nessuno sa niente. Lui non parla, a parte ogni tanto con la Madonna. Loro sono tutti ricoverati. Soltanto io e te semmo TSO. Ci avemo tanto in comune. Detto questo, mi stampa un bacio sulla guancia. Poi scoppia in una risata fortissima, esagerata. Quanto è bella la vita! Mi fa un centimetro dal viso. Resto in silenzio. Gli occhi scorrono da un letto all'altro, da pazzia ad altra pazzia. Lentamente, sperato, atteso, sgorga il pianto. «Dai, signori, che ora di pranzo!» Dalla porta si affaccia Pino. Lo chiamo a me mentre il pianto ormai è irrefrenabile. «Voglio tornare a casa mia, ve prego!» Gli stringo il braccio. Lui, con delicatezza, si toglie dalla presa. «Non fa così! La settimana passa in fretta, vedrai che te farà bene!» E si tira su. «Oggi minestrina e minestrone, patate lesse e piselli, petto de pollo o cotoletta! Forza!» Pino inizia a servire il pranzo. Alla vista delle varie pietanze, la poca fame sparisce del tutto. Gianluca e Madonnina, invece, mangiano voracemente. Alessandro, il catatonico, allo sguardo sempre lì, mezzo metro sopra la mia testa. Niente di questa dimensione lo interessa, nemmeno il cibo. «La mangi, la mela cotta?» Al mio fianco è comparso Mario, con i suoi capelli ricci, bianchi, alti come una siepe disordinata sopra la testa. Delle varie pietanze servite, l'unica che attirasse, seppur di poco, la mia attenzione era proprio la mela cotta, non fost'altro per affetto. Mia madre mi ci ha cresciuto, erano l'immancabile contorno delle mie influenze o malanno qualsiasi. «No, prendila tu, tranquillo». Di sorrisi buoni ne ho visti, tanti, meravigliosi. Ma questo sembra batterli tutti. Buono per quanto indifeso, per quanta gratitudine ci si possa immaginare dentro. «Mario mangia solo mele cotte, gli lasciamo pure le nostre?» Gianluca si sente in dovere di spiegare, da provetta guida del reparto quale si è autoproclamato. «Grazie», mi fa Mario, guardando con occhi liquidi i miei occhi. «La curiosità è troppa, vince anche sulla voglia di scappare. Con un cenno del capo chiamo vicino a me Pino». «Non me prende per matto, a parte che ci stiamo in un posto dei matti. Tu li conosci, Queen, quelli dei freddi Mercury?» Pino annuisce. «Lo so, Brian May, architarista identico. Mario è solo più vecchio e più matto». «Non mi veniva il nome. Grazie». Alle due di pomeriggio, vestito in abiti civili, vedo uscire a passo svelto Pino, non ricambia il saluto che gli faccio con la mano. Al suo posto compare un altro infermiere, più giovane, più magro, soprattutto. Il caldo nello stanzone è asfissiante. Solo io e Gianluca diamo segni di sofferenza, mentre Madonnina e Alessandro non sembrano accorgersene. Mario addirittura porta una pesante vestaglia sgualcita sopra il pigiama, anch'esso pesante, invernale. Dai pantaloni buttati dentro il mio armadietto, prendo 200 lire. Il telefono è all'ingresso del reparto, vicino alla porta chiusa a chiave. «Daniel?» Ho sempre pensato che mia madre abbia qualche potere soprannaturale, con noi figli specialmente. Un dono le fa capire prima e meglio, oltre ogni parola possibile, ogni menzogna costruita ad arte. Sapeva che ero io dall'altra parte del telefono. La certezza assoluta del suo amore, capace di battere le leggi della fisica, mi toglie la poca forza riapparsa. «Sì, so io. Come stai?» Un poco del suo dono per via di sangue ce lo ha trasmesso, o forse non serve alcun dono per accorgersi di tutta la sua preoccupazione. «Adesso bene, metteranno una settimana, lo sai?» «Il dottore ieri sera ce l'ha detto. Anche noi siamo d'accordo, tu non ti rendi conto, eri come impazzito. Adesso come te senti?» La mano corre alla zona della testa bruciata da Madonnina, le dita carezzano il cuoio capelluto scoperto, per fortuna solo i capelli si sono bruciati. «Sto bene, a parte il fatto che qui sono tutti matti, matti veramente?» Mia madre resta senza parlare. Poi riprende il discorso e capisco il motivo del suo silenzio. La voce le trema, ma si domina. «So due anni che giriamo. Nessuno ci ha capito niente. Lì dentro magari riusciranno a scoprì che è che t'ha fatto tanto soffrì. Perché un ragazzo di vent'anni dovrebbe essere felice. Tu invece vai avanti a tristezza. Non sapevo più che fa per levattela dedosso». L'autocontrollo che si era imposta si sgretola come terra secca. «Io vorrei vedette felice». Riesce a dire solo questo. Poi di lei arrivano i singhiozzi. «Ma io non so, infelice. Non si tratta di felicità. Mi sembra di essere l'unico a rendersi conto che siamo tutti equilibristi. Che da un momento ad un altro uno smette di respirare e li infilano dentro una bara come niente fosse. Per tempo mi sembra come un insulto. A te, a papà. E me c'è un cazzo. Ma io in certi momenti potrei accendere le lampadine con tutta la felicità che c'ho dentro. Veramente. Nessuno sa che significa la felicità come lo so io». Mia madre ha recuperato la facoltà di parola. Anche il respiro sembra più regolare. «Oggi pomeriggio passa tuo fratello con qualche cambio. T'ho preso un po' dei biscotti e dei succhi di frutta. Ti serve altro?». Mi piacerebbe dire a mia madre ciò che mi serve veramente. Sempre la stessa cosa da quando ho urlato il mio primo vagito al mondo. Quello che voglio per tanto tempo non è stato semplice da dire. Tentavo di spiegarlo con concetti complicati. Ho trascorso questi primi vent'anni di vita a studiare le parole migliori per descriverlo. E di parole ne ho usate tante. Troppe. Poi ho capito che dovevo procedere in senso contrario. Così, di giorno in giorno, ho iniziato a sfilarne una, la meno necessaria, superflua. Un poco alla volta ho accorciato, potato, sino ad arrivare a una parola sola. Una parola per dire quello che voglio veramente. Questa cosa che mi porto dalla nascita, prima della nascita, che mi segue come un'ombra, stesa sempre al mio fianco. Salvezza. Questa parola non la dico a nessuno oltre me. Ma la parola, eccola, è con lei il suo significato più grande della morte. Salvezza. Per me, per mia madre all'altro capo del telefono, per tutti i figli e tutte le madri e i padri e tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza. Ma come? A chi dirlo? O forse questa cosa che chiamo salvezza non è altro che uno dei tanti nomi della malattia. Forse non esiste e il mio desiderio è solo un sintomo da curare. a terrorizzarmi non è l'idea di essere malato, a quello mi sto abituando, ma il dubbio che tutto sia nient'altro che una coincidenza del cosmo, l'essere umano come un rigurgito di vita, per sbaglio. No, mamma, non mi serve nient'altro. Te stai tranquilla, mi raccomando, va bene? Tranquilla, c'è starò quando ritorni a casa. Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia! Madonnina si è svegliato, è seduto sul suo letto, alle mani aperte di fronte agli occhi. Sembra quasi studiarle, prima il dorso, poi i palmi. Pare stupito dalla sua facoltà di controllarle. Raggiungo il mio letto e mi cisdraio sopra. Sarò a un metro da lui. Non riesco a dargli un'età, forse attorno ai trent'anni. Il viso scavato, la barba lunga, gli occhi remoti dentro le orbite. Dal pigiama aperto, consunto, si intravedono pochi peli sul torace, su tutto una magrezza da contargli le ossa. Ma non è l'aspetto provato a stringermi il petto, a farmi chiudere per un istante gli occhi, invasi di compassione. Il suo aspetto è una triste conseguenza, è la cera consumata della candela. Quello che mi fa piangere è la brace nera che gli consuma gli occhi, un'angoscia profonda tanto da togliere il fiato. Quale malattia può mettere sulle spalle di un uomo un peso così enorme? Perché il peso che grava sul povero corpo di Madonnina è bestiale, disumano? Mi impongo di non guardarlo e me ne vergogno. Nella testa, solo per un istante, è balenato il pensiero che quella bestia d'angoscia che lo ha reso schiavo, potesse saltarmi addosso e prendere anche me. Gli occhi vagano nello stanzone. Oltre Madonnina c'è solo il mio dirimpettaio, Alessandro, sempre fisso sopra la mia testa. Decido di muovermi, di cercare qualche essere umano ancora in grado di parlare. Dalla stanza accanto arriva la voce di Marta Flavi. Ecco tornare Mario dal bagno. Mi sorride mentre mi sfila a fianco, a passo lento, raggiunge la finestra. Lungo il corridoio ho un modo di rendermi conto delle fattezze del reparto. La nostra stanza, lo studio medico proprio di fronte, assieme a un altro paio di porte chiuse, medicheria e i bagni per il pubblico, sono una specie di primo girone che si conclude con la sala della televisione. Subito dopo, un'altra porta a vetri, oscurati. Anche questa, chiusa a chiave come quella dell'ingresso generale, dovrebbe condurre all'altro girone, quello dei cattivi. Così dovrebbe essere. Assorti di fronte alla tv, ritrovo Gianluca e l'infermiere subentrato a Pino. Appena mi vede si alza, mi viene vicino. Ciao, rispondo con un cenno del capo. L'infermiere avrà al massimo trent'anni. È impacciato, timido. Io sono Lorenzo, chiarisco subito una cosa. Non rompe i cojoni a me e io non li rompo a te, se siamo capiti. In maniera senz'altro più maldestra e con meno capacità di incutere timore, l'infermiere Lorenzo ha replicato l'avvertimento di Pino. Grazie a lui capisco perfettamente il reale significato di quelle parole. Si aggredisce per primi per nascondere la paura di essere attaccati. Perché Lorenzo ha paura? Non c'è brandello del suo corpo che non lo segnali. Stare in mezzo a una torma di pazzi tutti i giorni non deve essere una cosa semplice. Non ti preoccupa, davvero, io so tranquillissimo, mi chiamo Daniele. Ma il mio tentativo di rassicurarlo non sembra avere sortito grandi effetti. A breve arriva Cimaroli per te, appena è pronto te chiamo. Lorenzo, detto questo, esce dalla stanza. Alla tv intanto Marta Flavi intervista un uomo attorno ai 40, l'ennesimo cuore infranto che cerca il nuovo amore. Certo fisicamente è una chiavica, magari è un bravo ragazzo, ma mica possono essere tutti belli come Daniele per esempio. Gianluca ha preso atto del mio arrivo tornando alla carica, sbatte le ciglia, sorride, poi negli occhi gli compare un desiderio vorace. Gianlu, io te lo dico adesso e deve valere per sempre. A me piacciono le ragazze, è chiaro? Se voi potemo essere amici, quello volentieri, ma non me fa quello che me salterebbe addosso de continuo perché ma noi, capito? Lui per tutta risposta avvicina il suo viso a un palmo dal mio, negli occhi una smania febbrile. Non sai che te perdi, soprattutto de bocca. Resto immobile, nulla faccio per nascondere il fastidio che mi sta dando. Gianluca vorrebbe continuare il suo gioco di seduzione, ma non gli riesce più come prima. E vabbè, che sarà mai? Certo che va bene, amici. È che quando sto nella parte bianca penso solo al sesso. Io vorrei pure essere più controllata, ma c'ho un'energia, una voglia continua, una fame di tutto. Resto sulle sue parole, cerco di domare l'istinto, di non cedergli, ma non ci riesco. Te posso chiedere una cosa? Scusa ma mi semagna la curiosità, che significa parte bianca? Gianluca mi si avvicina nuovamente. So gravemente bipolare, che ce vuoi fa? La parte bianca è quando sto bene, pure troppo. Infatti i dottori mi hanno detto che pure tutta steuforia è in sintomo. Io penso che sta bene, ma in realtà è la malattia. Poi c'è la parte nera, che è quando sto male davvero. Quella è tremenda. L'ultima volta sono arrivato a pesare 47 chili. Quando sto nella fase bianca penso solo al sesso, quando sto in quella nera solo alla morte. Gianluca tenta di sorridere, ma non ci riesce. Tanto lo so che prima o poi ci rimango nella parte nera. Nei suoi occhi brilla il presagio. È come se vedesse la sua fine. Sul viso gli balena per un attimo la ragazza urlante di stamattina. È spaventata, arresa, nascosta sotto i pochi capelli scoloriti, la barba sbiancata sulle guance. Lo guardo e mi sembra che tutto di lui chieda aiuto. Ma che dici? Te sei forte. Mo faccio una cosa. Chiamo Marta Flavi e gli dico se te presenta quel carciofo che c'ha vicino. Gianluca afferra al volo le mie parole. Torna al suo sorriso smagliante. Magari. Così la sera ci vieni a trovà. Certo, porto pure le paste. Non me parlà de' paste. A parte il sesso se c'è una cosa su cui non me tengo sulle paste. Dalla porta a vetri si affaccia Lorenzo. Mencarelli in sala medici. Mi alzo mentre Gianluca torna a Marta Flavi. Salutami i medici. Nello studio ritrovo il dottor Mancino. Accanto a lui un altro uomo in camice, attorno ai cinquanta. Sul viso paffuto un paio di occhiali da vista rotondi. Sono proprio loro ad accendere la memoria. Appena gli sono a tiro, mi allunga la mano. Ti ricordi di me? Annuisco. Sono il dottor Cimaroli. Ieri sera mi hanno chiamato al pronto soccorso per un consulto. Eri tu, diciamo, un po' più alterato. Purtroppo sì. Ho provato a chiederti cos'è che ti aveva fatto così arrabbiare, ma non mai voluto rispondere. Alla fine ti abbiamo dovuto sedare. Due volte. In tanti anni di carriera raramente ho visto persone così agitate. Ti tenevano in quattro. Ora ti va di raccontarci? La volontà di parlare nasce dalla speranza di vedere annullato il trattamento sanitario obbligatorio, ma non solo da questo. C'è anche la necessità di dire. Far uscire quello che la rabbia ieri sera non è stata in grado di lenire. Appena finite le superiori mi sono iscritto all'università. Giurisprudenza. Parallelamente ho iniziato a lavorare. Faccio... facevo il rappresentante di climatizzatori. È nato tutto da lì. Dal lavoro. Cimaroli è assorto nel mio racconto. Mancino, invece, dalla postura allo sguardo, nulla fa per apparire meno annoiato di quel che è. L'altro giorno mi passano un nominativo a Cisterna di Latina. La mia zona è più a nord, da Valmontone sino ad Arsoli più o meno, ma decidono che c'è davanti a io. Il nominativo era di due signori anziani. Io entro, faccio i calcoli per capire quanto grande deve essere il climatizzatore. Loro contenti, tutto normale. Poi, da una delle stanze, è uscito il figlio. So che a raccontarlo così sembra una cosa piccola. Il figlio avrà avuto una trentacinquina d'anni. Mi si sede vicino, mi sorride e mi inizia a carezzare sulla guancia come un bambino. Il padre allora comincia a raccontare. Adesso non sembra, ma lui è ingegnere, ingegnere nucleare. Lavorava in Polonia. Per la neve c'è stato un incidente de macchina. Stato in coma quasi un anno. Ecco com'è rimasto. Le parole mi riportano in quell'appartamento. Di fronte agli anziani genitori, il figlio tornato bambino. La sofferenza si ripropone identica. Poi, è sempre Cimaroli, con il suo sguardo affettuoso, a chiedere. Non è stato tanto il racconto del padre, ma quelle carezze. A un certo punto mi è sembrata tutta una recita. Mi so alzato, gli ho detto che il climatizzatore in realtà non ce l'avrebbe fatta, a fredda e scaldà tutta casa. Gli avrebbero speso una cifra enorme decorrente e alla fine so scappato. Mi sono ritrovato per strada, ho infilato la ventiquattro ore dentro un secchione dell'immondizia e sono venuto via. Ma non sono riuscito a smettere di pensare a quel ragazzo. È montata una rabbia. Possibile che nessuno si accorge che siamo come una piuma. Basta uno sputo di vento per portarci via. Possibile cresce un figlio, levasse il pane di bocca per farlo studiare e ritrovasselo come un bambino di quattro anni. Perché? A che cazzo serve tutto? Sono arrivato ad Albano che volevo in qualche modo farla finita. Ho incrociato un amico che vende la cocaina, ho preso tre grammi con tutti i soldi che avevo. Ho pensato che mi avrebbe dato una mano per, insomma, per chiudere la storia. Tra il caldo e le parole che escono con fuga mi accorgo di essere totalmente zuppo. Cimaroli se ne rende conto, si alza di scatto e va alla porta. Quando ritorna in mano una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, me la porge. Con un sorso ne finisco quasi mezza. Poi cos'è successo? Sono andato a casa, i miei stavano a cena dai suoceri di mia sorella. Ho tirato i tre grammi in due strisce, ma non riuscivo a fare niente. Allora ho svuotato una bottiglia di whisky di mio padre. Finalmente la rabbia è uscita, ma non ha sufficienza per far quello che volevo fa. Ho distrutto tutta casa. Alle undici mio padre è tornato. Appena m'ha visto è svenuto, un collasso nervoso, per fortuna. Poi al pronto soccorso. Beh, ringraziamo il cielo che la rabbia non è uscita a sufficienza. Almeno ora sei qui e ti puoi fare dare una mano, no? Sì, anche se... Parla tranquillamente. Che cura può esiste per come è fatta la vita? Voglio dire, è tutto senza senso. E se ti metti a parlare di senso ti guardano male, ma è sbagliato cercare un significato. Perché devo avere bisogno di un significato? Se no, come spieghi tutto? Come spieghi la morte? Come si fa ad affrontare la morte di chi ami? Se è tutto senza senso non lo accetto. Allora voglio morì. A casa vostra si parla di religione? Sua madre è molto praticante? Stavolta è mancino a interrogare. Qualcosa del mio discorso deve averlo smosso. Praticanti mai? Mio padre è socialista, mia madre è comunista. Nel borsellino porta Berlinguer insieme a Papa Roncalli. Ma di chiesa non si parla, a parte battesimi, matrimoni e funerali. Ma che c'entra? Questi discorsi sul senso e il significato rimandano a temi religiosi e Dio è un dato ambientale. Come ambientale? Diciamo che è un po' come un alfabeto. Qualcuno te lo deve insegnare. Non so se la confusione che vivo in questo momento sia percepibile all'esterno. Per capire meglio. E qual è il contrario di ambientale? Per fare un esempio, la morte è ambientale. La morte esiste, è un fatto. Poi gli uomini e le varie civiltà hanno trovato codici diversi per spiegarla e darle un significato che altrimenti non avrebbe. Quindi se io guardo mia madre o mio padre e sento che l'amore che provo non ha un tempo o una scadenza, è perché me lo hanno insegnato. Perché se no l'amore, senza questo insegnamento cosa sarebbe? Mancino sbuffa, mi guarda come una pulce. Questi sono intellettualismi, esistono persone che hanno un funzionamento diverso dalle altre, spesso per ragioni abbastanza semplici, chimiche. Solo per farti un esempio, nessuno ti ha mai parlato di ricaptazione della serotonina? No. La serotonina è un neurotrasmettitore. Tu potresti avere un deficit di questo neurotrasmettitore. Cimaroli poggia una mano sulla spalla del collega. Magari è meglio sentire da lui i percorsi terapeutici che ha seguito, giusto per farsi un'idea. Mancino svogliato annuisce. Ci puoi dire chi ti tiene in cura e magari i farmaci che ti hanno prescritto? Per cosa? I dottori li ho già detti al suo collega. Ricordo Lorefice, San Filippo e Castro. I farmaci sono parecchi, non credo di ricordarli tutti. Mi fermo per riordinare i ricordi e i nomi. Allora, il primo in assoluto è stato l'anafranil, un antidepressivo, ma a parte l'impotenza non mi ha fatto nulla. Poi il carbolitium, anche questo niente, a parte il grasso alla pelle e ai capelli. Poi mutabon, tegretol, depachin, tutte le benzodiazepine, queste pure per l'insonnia. Ce ne saranno sicuramente altri, ma per ora ricordo solo questi. Sono per patologie molto diverse tra loro, osserva Cimaroli. Ogni medico ha fatto una sua valutazione, su questo non posso dire molto. Io ho sempre raccontato la stessa storia, più o meno. Mancino si sgranchisce, per lui l'incontro è terminato. Bene, naturalmente anche noi a fine trattamento emetteremo la nostra diagnosi. Guardo negli occhi entrambi i medici. Cerco di apparire il più serio e tranquillo possibile. Io ve lo giuro, ho capito la lezione. Rimandatemi a casa, per favore. Mancino non degna di risposta alla mia richiesta. Cimaroli si mostra dispiaciuto. Credimi, hai bisogno di questo periodo di osservazione. Il nostro è un piccolo reparto, stai tranquillo. Un'ultima cosa ti volevo chiedere. Fai spesso uso di cocaina, stupefacenti in genere? Durante la settimana la hashish, l'erba quando capita, il venerdì e sabato sera cose più pesanti, soprattutto ecstasy, o quando non si trovano pasticche e la cocaina, sempre con gli amici. Per uno con il tuo sistema nervoso ogni pasticca vale 100. Non voglio farti prediche, ma è così. Studia ancora giurisprudenza? No, ho lasciato qualche mese fa. Hai qualche progetto? O passione? Qualcosa che ti piacerebbe fare? Mi vergogno a dirlo, ma alla fine ci riesco. Io scrivo poesie, dalla terza media. Cimaroli sorride, mi dà una pacca sulla spalla. Bravo! Se vuoi, al prossimo incontro puoi leggermi qualcosa. L'imbarazzo mi coglie in pieno. A parte mia madre, una ex fidanzata non le ho mai lette a nessuno. Mancino si alza, saluta Cimaroli con un cenno del capo. A me niente. Delle sue parole una cosa mi è rimasta dentro. Se non la tiro fuori ora, ne sono sicuro. Mi ossessionerà tutta la notte. Dottor Mancino! Lui si gira verso di me con fastidio assoluto. Lei prima ha detto che il mio problema potrebbe essere semplicemente chimico. Magari fosse così. Se fosse solo una questione di chimica, basterebbe aggiungere o diminuire. Io sarei il ragazzo più felice del mondo, ma per ora tutto quello che ho provato non ha cambiato niente. Lui sorride come di fronte a un cane che cerca di svolgere un ruolo che mai riuscirà a portare a termine, come di fronte a qualsiasi bestia che non si rende conto del suo limite. Basta trovare il farmaco giusto. Rientro in stanza. Si accoda a me un uomo di mezza età e mezza altezza. Io sono basso, lui molto di più. Arriverà al metro e sessanta a essere buoni. La faccia, il colorito abbronzato. Non ci vuole un grande occhio per capire che lavora all'aperto. Va a sedersi accanto ad Alessandro, a una busta della spesa da cui tira fuori una confezione di yogurt, una bottiglia d'acqua. Di tanto in tanto butta lo sguardo verso il mio letto, dove mi sono lanciato, sudato, esausto dopo il colloquio con i medici. Sei entrato stamattina? Mi chiede mentre con delicatezza apre uno dei due vasetti di plastica. Stanotte. Che c'hai? Boh, non lo sanno manco loro. Hanno detto che me lo diranno a fine ricovero. Pure te sembri normale. Un ragazzo a posto. Intanto hai iniziato a imboccare il figlio, o meglio, a tentare di imboccarlo. Mi ricorda mia zia quando provava a far mangiare mio cugino d'un paio d'anni e lui che serrava le labbra. Lo vedi? Pure lui è normale, no? Sempre è stato normale. Da quando ha finito le medie lavorava con me. Io c'ho 40 anni di muratura alle spalle. Lui mi faceva da manovale. A imparare mestiere c'evo tempo. Lui era in gamba, sia chiaro. Poi un giorno... Si ferma per pulire i lati della bocca del figlio. Di tutto lo yogurt, solo una minima parte è finito in bocca. Il resto gli cola per il viso. Lo vedi? Sostina a mangiare solo con me. Ti dicevo, un giorno saranno passati un par de' mesi. Stavamo a rifare un appartamento a castello. Finisce l'intonaco e gli dico... Alessà, io vado allo smorso. Pensavo de' fargli una bella sorpresa, perché gli dico... Altramezzo, tiralo su te. Lui era tutto contento. Era la prima volta che gli lasciavo fa' un lavoro più grosso. Io vado e quando torno lo trovo così, come vedi adesso. Altramezzo aveva iniziato a tirarlo su, ma si vede che non aveva preso bene misure. Insomma, era storto. Tutto fuori piombo. Ave un muro se può rimaner così. Il padre poggia lo yogurt sul comodino. Prende dal taschino della giacca un fazzoletto ben ripiegato. Ci si asciuga gli occhi. Io poi sto da solo. La madre è scappata con Polacco tanti anni fa. Non saprei manco onde cercarla. Sempre dalla giacca, ma dalla tasca interna, tira fuori un pettinino. Lo sfila dalla sua custodia morbida. È identico a quello che mio padre tiene nel portaoggetti della macchina. inizia a pettinare il figlio, con cura, partendo dai lati della testa. Soprattutto un ciuffo sulla nuca lo fa penare. Alessandro non stacca i suoi occhi dal vuoto assoluto. Sempre lì, mezzo metro sopra la mia testa. Ci vuole tempo, un poco d'ostinazione. Alla fine, anche il ciuffo ribelle torna in ordine. Quale malattia mi fa chiedere salvezza? Quale educazione mi fa implorare pietà? Fa che il mio sia solo uno scompenso della chimica. Datemi tutta la chimica del mondo, ma chiudetemi gli occhi, il cuore, perché non ce la faccio più a soffrire così per quello che vedo. Sento. Dalla porta, come un astronauta su terre extraterrestri, compare il viso di mio fratello. Fa capolino dalla porta come temesse di entrare. gli faccio cenno di non muoversi e contemporaneamente mi alzo dal letto. Lo raggiungo. Ma io sta fuori sul corridoio. Mio fratello non si capacita. Controlla ogni passo su questa terra marziana, fatta di urla, facce sconvolte, pareti scrostate dalla pazzia. Poi si accorge della chiazza senza capelli che mi porto su un lato della testa. Che cazzo te si è fatta i capelli? Niente, è il vicino del letto, ma mo' è tutto a posto. I mortacci due, guardando cazzo sei finito. Quanti cambi mi hai portato? Lui mi passa un borsone. Mamma t'ha messo tre mutande e tre magliette. Ha detto che tanto domani viene lei. È il suo sconcerto, il terrore a darmi determinazione assoluta. No, guardate intorno. Mamma non la voglio, per nessun motivo. Sì, meglio non falla venì. Mo' vattene pure te. Mio fratello non se lo fa ripetere. Mi guarda un'ultima volta. L'abbraccio è fugace, quasi vergognoso. La cena è servita alle sei e mezza e ripete il rito del pranzo. Gianluca si strafoga, anche Madonnina mangia, ma più lentamente. Sul portavivande di Mario quattro piattini di plastica con altrettante mele cotte. Lui si sistema con una precisione da brividi, millimetrica. Ora che ci faccio caso, tutto attorno al suo letto è ordinato alla perfezione, piegato come neanche i militari. L'ordine cozza contro il suo pigiama di flanella, sgualcito e consumato. Come faccia a portarlo con questo caldo lo sa solo la malattia mentale. Almeno per cenare si è tolto la pesante vestaglia. Di tanto in tanto guarda fuori dalla finestra, verso l'albero e la sua chioma. Sorride in quella direzione, verso un punto preciso. Poi, forchetta e coltello, con postura da principe decaduto, inizia la prima mela cotta. Anche io sto mangiando. Biscotti al cioccolato, uno dei diversi pacchi portati da mio fratello. I piatti dell'ospedale non li ho nemmeno guardati. Il sole è ancora altissimo. E sai i miei amici cosa staranno facendo? Mi ci giocherei un caffè. Vista l'ora, stravaccati a Villa Doria, con la canna che gira. Questa settimana iniziano i mondiali di calcio. Ci stavamo organizzando una seratina per vedere assieme la nazionale. Di questo TSO non devono sapere niente. Non capirebbero. Inventerò qualcosa. Una settimana improvvisa di lavoro, un corso lontano da casa. Devo comunicare alla mia azienda che mi sono licenziato in tronco. Spero non richiedano indietro i cataloghi e il blocco dei contratti. Insieme alla mia 24 ore stanno in un cassonetto sperduto nella periferia di Cisterna di Latina. Che si fa? Gianluca, in preda al buon umore, gira la sua domanda a tutti. Non so bene cosa gli dica la testa. Non sembra trovarsi in una stanza di reparto psichiatrico, ma in quella di un albergo, in compagnia di amici pronti a vivere la serata tra mille divertimenti a disposizione, magari sulla riviera romagnola. Nessuno gli risponde. Mario intanto pulisce con cura il suo portavivande. Ripiega il tovagliolo di carta alla perfezione, prima di buttarlo nel cestino. Madonnina ha finito la cena e ora, in posizione fetale, sembra già pronto a lasciarsi andare nel sonno. I minuti sono lunghissimi. Passa un secolo per arrivare all'imbrunire, alle nove passate. Ho occupato il tempo leggendo un quotidiano messo da mia madre in mezzo alle altre cose. Non si parla d'altro che di nazionale. Arrigo Sacchi non mi è simpatico, però non gli si può certo negare genialità. Più di lui è Baggio, il principe della nazione. E come non essere d'accordo? Anche se non sottovaluterei Beppe Signori. Gioca con la Lazio e questo è imperdonabile, ma è un rapace. Attacca la porta come pochi. L'Italia esordirà sabato contro l'Irlanda e io starò chiuso qui dentro. Le stati con i mondiali di calcio sono le più belle. Una nostalgia immane mi racconta la vita fuori di qui come un'isola meravigliosa. Ma io ho naufragato. A parte questo, poco altro mi riesce. Signori, spegnete! È una donna attorno ai cinquanta a comunicarci l'obbligo del sonno. Qui dentro tutto è comandato, con gentilezza ma pur sempre comandato. Lei resta fissa proprio su di me. Tu sei il nuovo villeggiante. Pare di sì. Io sono Rossana, faccio la notte. A differenza dei suoi colleghi maschi non si è sentita in dovere di minacciare, per paura di essere minacciati. La prima notte insonne che ricordi è datata a 6 gennaio 1985. Il giorno successivo avrebbero ripreso le scuole dopo le vacanze natalizie, ma quella notte tutte le preghiere degli studenti di Roma e provincia furono esaudite. Quanta neve. Come un regalo dal cielo. Rimasi alla finestra tutto il tempo, prima vedendola cadere, poi come tappeto scintillante, invincibile sulle cose. Quella è stata l'unica notte in cui fui felice di non dormire. Dopo ne sono venute a migliaia, notti a inseguire il sonno, a corteggiarlo come la più bella delle fiche. Le peggiori sono quelle dopo l'ecstasi. Si resta distesi per abitudine, sapendo perfettamente che dormire sarà impossibile, con la mascella indurita, gli occhi sbarrati sul soffitto, il cuore che vibra nella cassa toracica. Ma qui, ora, non c'entra la mia insonnia. Non c'entrano neanche tutte le droghe del mondo. Qui, ora, non dormirebbe nemmeno chi lo fa come un angelo beato. Con il buio, come lupi o altre bestie notturne, hanno iniziato ad alzarsi i lamenti, le voci, i deliri. Anche in questa stanza. È Mario quello a straziarsi di più. Piange, parla di una certa angelica. Urla. La paura mi fa sentire improvvisamente freddo. Mi copro con il lenzuolo, malgrado stia sudando dal caldo. Stamattina la persona che ora mi dorme vicino ha tentato di darmi fuoco. Davanti a me ho un ragazzo che non smette di fissare mezzo metro sopra la mia testa. Poi altri due pazzi. Voglio scappare. Quali saranno le conseguenze legali per uno che fugge da un TSO? E da dove scappare? A parte la finestra, ogni entrata è chiusa a chiave. Suono il campanello. Poi mi alzo, decido di non aspettare l'infermiera Rossana. Lei stava sul corridoio, diretta da me. Mi potrebbe dare qualcosa per dormire? Con le urla non ce la faccio, la prego. Rossana nemmeno mi risponde, gira sugli zoccoli e torna verso la medicheria. Te prego, io così impazzisco, te prego. Lei si ferma, il viso appesantito dal tempo, senza trucco. Mi dispiace, ma senza permesso del medico non posso dare niente. E non si può chiedere sto permesso. A quest'ora è quando ce stanno. Domattina ormai. Io scappo allora. Non l'ho detto a lei, ma a me. Rossana mi guarda, è leggermente indispettita. Da qui. A passo svelto va in medicheria, poi torna. Tiè, domattina lo comunico al medico. La pasticca è microscopica, verdina, sembra una zigulì in miniatura. Ma che è? Non l'ho mai vista. Parganasse è un antistaminico, ma noi lo diamo per dormire. Mo va di là e dormi. Io resto per il corridoio, con la pasticca in mano, la mando giù senza acqua. Nella stanza c'è silenzio. Il tempo di costatarlo e Mario riprende il suo lamento. Gli altri sembrano dormire. La pasticca per ora non fa effetto. Non vorrei che Rossana, per tenermi buono, avesse rifilato la caramellina di qualche nipote.